Mister, buonasera. C'è un pizzico quasi quasi di rammarico per non averla vinta, nel senso che il Verona la meritava a questo punto la partita? Ma sai, il calcio conteguente delle squadre adesso magari l'avremmo anche meritata, però poi alla fine hanno avuto anche loro le loro situazioni, magari in un momento di calo fisico, in un momento che avevano già pareggiato, qui magari alla fine la puoi anche perdere. Però la sostanza è che la squadra ha fatto la partita che doveva fare, poi con i suoi pregi, con i suoi limiti, con i suoi errori, però partita intensa, con grande predisposizione proprio a fare le cose che avevamo preparato e quindi sono contento. Ecco come atteggiamento, anche come determinazione, magari l'anno scorso in qualche caso capitava, facevate il gol, ritravate il baricentro, quest'anno avete continuato ad attaccare, no? L'ha letta così, Mister? Ogni anno ha una sua storia, quest'anno oggi è andata così, poi magari le prossime faremo uguale. Le fasi delle gare sono diverse, noi siamo andati in vantaggio ma siamo andati lì perché avevamo già 3-4 giocatori che non avevano più neanche la forza di ripartire, soprattutto i tre centrocampisti, i due esterni hanno chiesti cambi, quindi 5 giocatori che stanno nel delto il gioco, che difendono, attaccano e quindi lì qualcosa abbiamo pagato. Peccato, a dia dell'errore, però credo che Rafa ha fatto due grandi parati, quindi va benissimo così, è un grande punto. Una catena di sinistra che già funziona alla grande, almeno questa è stata la mia impressione, con Supra Yen, a mio parere il migliore in campo, assieme ad Alfredson l'ha vista anche lei così? Sì, sono stati bravi, sono stati bravi lì, poi abbiamo fatto gol a destra, però niente, Samuel ha fatto una grande gara, ma lo vedevo, è pronto, è un ragazzo attento, intelligente, svelto, sveglio, quindi l'unico ramarico è un po' così, ripeto, aver tenuto poco il vantaggio e poi qualche cambio, un po' così, qualche giocatore ancora che non è proprio dentro, ancora alle situazioni, proprio come situazioni di gioco, però per il resto è il punto che volevamo fare punti e li abbiamo fatti. Complimenti mister, insomma, un Verona che ha pressato anche molto alto, quello che abbiamo visto oggi, un Verona che ha sfissiato le fonti del gioco della Roma, che ha chiaramente coperto le fasce, ti chiedo, è un atteggiamento nuovo, è un atteggiamento che avevamo già visto con i Napoli, con la Roma stessa l'anno scorso, un atteggiamento che vuoi proporre il più, cioè tenere il più a lungo possibile nel corso del campionato? Ma, insomma, l'atteggiamento è una cosa, poi devi avere anche le gambe per fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di aggressione alta, l'abbiamo fatta, loro è una squadra che gioca, parte molto da dietro, quindi non l'ha fatto spesso, perché comunque loro poi calciavano, quando l'ha fatta abbiamo rubato palla in una situazione di gioco con Alfredson, però l'atteggiamento era quello di andare a prenderli prima, non fai l'iniziale, poi non sempre puoi e ce la fai, perché loro hanno un palleggio, non è la tecnica, quindi a volte ti saltano e abbiamo preso qualche ripartenza che poteva essere pericolosa, sono i rischi che corri, qualcuno l'abbiamo corso, però tutto sommato è andata bene. Tutto bello, una bella partita, una bella cornice di pubblico, mi ha un po' stupito una cosa, che il primo cartellino giallo, forse l'unico alzato in faccia a un giocatore della Roma, sia arrivato tipo a sette minuti dalla fine, in una partita così tesa, in una partita nella quale comunque i due centrali della Roma si sono scontrati spesso e volentieri con Tony, cioè come l'hai vista? Ma no, io l'unica cosa è quella, Luca è un po' bersagliato, lui è talmente grande, quindi non credo che faccia apposta, quindi tante situazioni di gioco lo vedono così, fanno correre molte volte, lui insomma fa fatica, ecco l'unica cosa mi sento dire è un po' quella, con qualche situazione, qualche fallo che ha lasciato cuore, però insomma fa parte del gioco, per quanto riguarda i cartellini, è stata una gara intensa, anche maschia, però sempre corretta, quindi va bene così, dai. Su Praien, un giudizio su questo ragazzo, non posso ha preso tutti? Sì, ha fatto bene, ha fatto bene in Coppa Italia, ha voluto riconfermarlo, quindi siamo contenti, adesso è solo il primo passo, le partite saranno sempre tante, ancora più difficili, però è un ragazzo pronto, ripeto, siamo contenti della sua prova. Poi ha provato anche a vincerla, no? Nel senso con Sidi Gardi in mezza punta e Pazzini e Tony. Magari avrei voluto farlo prima, il ramarico così degli ultimi mezz'ora è questo, abbiamo giocato molti giocatori sulle corde, proprio fisicamente, e poi due cambi forzati che sono Jankovic e Supraien, quindi dopo sai, fai anche un cambio prima, lo volevo fare molto prima a Paolo, gli ho detto guarda al trentesimo vai dentro, perché l'ultima quarto d'ora secondo me potevamo essere pericolosi, loro erano molto aperti, venivano, lui ti poteva attaccare la profondità, però purtroppo abbiamo dovuto portarla fino ai 5 minuti finali, più i 5-10 minuti, perché avevamo già fatto i cambi. L'unico ramarico è quello, però, Paolo è entrato con uno spirito da Verona e siamo contenti. Ciao mister, comunque penso che un mister sia soddisfatto quando vede con una squadra a giocare come lui vorrebbe, insomma fondamentalmente. Ma poi alla fine è sempre uno, ah no, magari potrebbero vincere, però poi alla fine puoi anche perdere con la Roma, anzi, molte volte è più facile che perdi. No, no, sono soddisfatto, gli ho fatti i complimenti, sono stati veramente encomiabili, bravi, sono sacrificati, hanno corso, hanno fatto fatica, hanno gioito, hanno sbagliato, hanno fatto una bella partita, si meritavano un risultato positivo e quello è venuto. A un certo punto pensavi di vincerla però, a parte la soddisfazione finale del pareggio. Magari la mia squadra mi dà sempre l'impressione che possa vincere, ma poi tante volte poi la perdiamo, quindi bisogna anche sapersi accontentare, credo che vada bene così. Ultima cosa, è vero che con i giocatori che hai quest'anno però ti possono garantire anche dei cambi comunque di moduli anche a partita in corso, magari con avere più alternative davanti soprattutto? L'abbiamo fatto, oggi abbiamo cambiato, è entrato Siria, è entrato City Guardian, è entrato Paolo, ma qualcosa abbiamo cercato di fare, insomma Romulo lo vedi ancora che ha un 40% delle sue potenzialità, insomma qualche giocatore l'abbia recuperato, oggi c'è, manca ancora Viviani, è l'Under, insomma tanti giocatori sono fuori, lo stesso Faresco è un ragazzo, però insomma sta bene, per noi è un cambio importante, quindi pian pianino recupereremo i giosti giocatori, però rimanendo al presente io avrei firmato per questa partita e così è stato. Mister, tutti sopra la media, i giocatori naturalmente più che sufficienti, forse un tantino Sala ha stentato, un po' le voci di mercato possono aver influito? No, magari si aspetta sempre lui che spacchi il gioco, che riparta, ha fatto la partita che deve fare, io non credo che siano le voci, lo vedo sereno, anzi era nella gara, però magari ci sta in un contesto, magari fare un po' meno, però credo che sia stato comunque utile alla squadra sotto tanti aspetti e per noi è un giocatore fondamentale. Altre domande? Mister, chiaramente in molti se lo chiedono, sarà possibile magari vedere dall'inizio prossimamente Pazzini e Toni, è un'idea che ha già in mente, si è già fatto? L'abbiamo già visto in Coppa Italia, credo che abbiamo giocato, abbiamo vinto, qualche partita giocheranno, qualcuno a qualche partita giocherà a Paolo, molte volte giocherà a Luca da solo, quindi questi sono i nostri attaccanti, i due centravanti, i due centravanti ce li ha anche la Roma e non li ha buttati dentro, quindi in base anche a un po' le gare che andremo a giocare, oggi è stata così, domenica ci penseremo, la prepareremo e perché no, magari giocheranno o magari no, però fa parte della squadra e di come preparerà la partita, l'importante credo che sia sempre comunque questo atteggiamento che ha, adesso tu mi hai fatto una domanda di Pazzini, che ha avuto lui quando è entrato, lo stesso Sirigardi, Roma, insomma, hanno voglia e quindi questa è la cosa positiva.